salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video allora oggi è 14 settembre faccio questo video per un motivo diciamo un po particolare per cercare un po di ricordare un evento che è stato importante comunque per il mondo del karate perché il 14 settembre del 2013 si svolse un importante seminario a pomezia olimpia città dello sport con il maestro tsuguo sakumoto ex capo della vkf e il rettore magnifico rettore dell'università delle arti di okinawa e kohei yamada altro maestro giapponese referente per lo stile storiu del comitato regionale filcam lazio filcam federazione alla quale appartengo e in questo anniversario di questo importante seminario che si tenne appunto con i maestri sakumoto e yamada volevo leggervi proprio un'intervista che è stata fatta al maestro kohei yamada di andrea torre che è una diciamo un'intervista molto interessante anche praticamente molto breve perché credo l'abbiano sintetizzata al massimo però credo sia molto interessante quindi in coincidenza di questa sorta di anniversario mi faceva piacere portarvi questa intervista appunto di questo maestro che è stato protagonista di questo seminario a pomezia il 14 settembre del 2013 quindi stiamo parlando ormai di diversi anni fa allora qui c'è un'introduzione appunto del maestro andrea torre che dice passeggiando per la periferia sud est di roma tra le nuove costruzioni che sorgono sempre di più fino a far diventare una terra verde in un agglomerato di cemento armato ci si imbatte in un docio fatto di tradizione e cultura dove l'amore per il karate la fa da padrona questo è il piccolo regno del maestro yamada kohei e qui inizia proprio l'intervista la prima domanda che viene rivolta al maestro yamada e è questa ci racconti qualcosa di lei quindi andiamo un po ad introdurre questo importante personaggio del mondo del karate contemporaneo il maestro yamada qui si dice si è laureato in giurisprudenza nel 1973 in giappone all'atekyo university nel 1975 giunge in italia e da quel momento fino al 1978 è stato assistente e della commissione tecchia della nazione italiana di comité dal 1977 al 1979 è stato arbitro nazionale fino al 1983 era membro della commissione nazionale esami e stage di aggiornamento ha insegnato e lo fa tuttora anche in docio privati per un periodo è stato anche rappresentante nazionale dello story dello shitori appunto ha conseguito il sesto dan di karate ad osaka nel 1986 quindi diciamo che il maestro yamada come avrete notato ha un approccio anche più sportivo al karate ma questo ovviamente non significa che sia che non sia un maestro di valore anzi e in questa breve intervista poi la la seconda domanda che gli viene rivolta è cosa pensa del comité dei suoi tempi e del comité sportivo attuale quindi se magari trova qualche analogia qualche differenza come si è voluto e qui il maestro yamada ci dà una un'opinione diciamo molto interessante perché dice ai miei tempi il karate era più statico non era veloce e dinamico come quello attuale quando si portavano i colpi la tecnica era ben visibile oggi la tecnica viene portata talmente veloce che alcune volte al di fuori di un tatami è addirittura difficile vederla e questo è vero l'abbiamo visto tantissime volte anche nel comité della vkf dove sono tantissimi campioni tantissimi atleti veramente formidabili però è difficile a volte riuscire a capire quale tecnica non eseguito proprio per per la velocità molto alta no e infatti qui il maestro yamada dice il comité attuale è più spettacolare è bello a vedersi prima infatti di calci jodan quindi calci tirati all'altezza del viso se ne vedevano pochi oggi la gente è molto più attratta ad un incontro da un incontro di karate che non in passato e qui già io li sento i tradizionalisti infuriati che mi commentano sotto però vi sto semplicemente riportando un po appunto la testimonianza del maestro yamada quindi prendete il video per quel che senza evitando di fare polemiche magari e qui continua nel mio periodo il karate era improntato sulla potenza e precisione oggi a questi si affrancano molti altri fattori prima di tra tutti un'ottima preparazione atletica attualmente il karate e soprattutto il comité sportivo è quello il maestro yamada lo definisce meno traumatico rispetto al passato viene giustamente salvaguardata l'incolumità della persona con l'evoluzione dello sport tutto è naturale che ciò accadesse anche al comité e qui poi viene fatta un'altra domanda al maestro yamada lei viene chiesto le sue maggiori soddisfazioni le ha avute da atleta o da maestro non in riferimento ai risultati ottenuti bensì a ciò che ha suscitato in lei maggior spirito d'abnegazione ovvero dedizione e infatti il maestro yamada è molto sintetico quanto chiaro dice sicuramente da maestro insegnare il karate ai ragazzi mi riempie di gioia ogni giorno lo faccio senza fatica con estrema passione ed edizione poi gli viene chiesto quali sono le qualità secondo lui per riuscire proprio nell'attività di maestro e infatti qui il maestro yamada dà una risposta molto interessante dice mettiamo da parte momentaneamente le capacità tecniche ciò che è fondamentale è l'onestà la serietà e di sapersi relazionare con i propri ragazzi quando serve darti anche dei consigli extra karate questo è anche molto importante perché io ma non solo io insomma ritengo che il dojo non sia soltanto un luogo di allenamento ma un luogo in cui formare il carattere la globalità della persona non a caso il primo principio del dojo kuna dice cerca di perfezionare il carattere no e poi qui dice il maestro ci dice senza yamada deve essere per gli allievi una persona trasmettitrice di valori ed anche un esempio da emulare in un certo senso e qui addirittura si scusa per la presunzione però appunto vedete questo è molto importante ecco il maestro yamada ci dice che il maestro è una persona da emulare ecco purtroppo sono maestri che addirittura non vorrebbero mai che i loro allievi raggiungessero i suoi loro livelli abbiamo già parlato anche in un in un video diversi mesi fa e invece io appunto mi trovo perfettamente d'accordo con il maestro yamada cioè appunto il maestro dovrebbe essere anche una figura di ispirazione per i propri allievi e quindi se si può riuscire anche ad emulare e seguire i suoi esempi e poi qui l'ultima domanda perché questa è una cosa interessante proprio la ciliegina sulla torta perché il maestro yamada ha condotto anche una carriera da attore e addirittura sono i più anziani che ricordano le sue apparizioni nel film sandokan addirittura recentemente recentemente relativamente perché questo questo intervista di un po' di anni fa in condom e infatti cui il maestro yamada dice è stata una bella esperienza mi sono divertito fare cinema è piacevole e si incontra gente simpatica quindi diciamo che si è un po' chiusa così questa questa breve intervista che è stata anche molto interessante soprattutto anche per capire quale fosse la sua visione del karate io ve l'ho letta proprio per capire qual è la visione del karate di un maestro molto importante come appunto kohei yamada che tra l'altro appunto io ho anche conosciuto personalmente a Pomezia nel 2013 quindi mi faceva piacere appunto portarvi questa breve intervista proprio in conscienza dell'anniversario di questo importante seminario che gli ha tenuto a Pomezia insieme al maestro Sakumoto bene io ho concluso questo mio video di oggi se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale io vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo ad un prossimo video arigatou gozaiamashita